Terminata questa prima panoramica generale di TIC, passiamo agli aspetti operativi di creazione e invio delle fatture. Dalla home page è possibile richiamare in un clic la creazione della fattura. Il primo passo è certamente l'indicazione del cliente destinatario della fattura. Se l'anagrafica del cliente è già presente, per richiamarla basterà scrivere le prime lettere o i primi numeri della partita IVA. Se non presente, è possibile crearla, richiamando con pochi clic la banca dati Camera di commercio, a cui TIC è sempre collegato. La ricerca può avvenire in due modi. Con il bottone Partita IVA si richiama un campo in cui inserire la partita IVA per la ricerca nella banca dati. Oppure direttamente compilando il campo Ragione sociale, con i dati della partita IVA da ricercare e cambiando posizione con il tasto Tab. In tutti e due i casi, TIC effettuerà una ricerca in banca dati presentando il risultato per la conferma ed un eventuale completamento con PEC e codice destinatario. La ricerca delle anagrafiche cliente dalla banca dati della Camera di commercio permette anche di verificare la correttezza della partita IVA a cui si sta emettendo fattura. Se infatti si ricerca una partita IVA cessata, TIC lo segnala e non abiliterà il tasto Inserimento per creare l'anagrafica. Bisogna inoltre tenere presente che la ricerca del cliente nella banca dati è possibile solo per quei soggetti iscritti alla Camera di commercio. Ad esempio, non sarà possibile ricercare soggetti non iscritti alla Camera di commercio. Una volta richiamato il cliente, dall'icona lente d'ingrandimento sarà possibile entrare in Modifica dell'anagrafica. La numerazione delle fatture è automatica ed è influenzata dallo stato documento, cioè se pronto per l'invio o provvisorio. È infatti possibile scegliere la modalità di emissione fattura tra le seguenti tre scelte di stato documento. Da inviare Da inviare e integrare in Digital Hub Provisoria Le prime due permettono di generare una fattura pronta per l'invio al servizio Digital Hub Zucchetti, mentre la terza congela la fattura all'interno di TIC. Lo stato da inviare prevede l'invio in automatico al cliente finale tramite l'Agenzia delle Entrate, SDI. Mentre lo stato da inviare e integrare in Digital Hub consente di generare la fattura, inviarla tramite TIC al Digital Hub, dove sarà fermata per eventuali integrazioni o verifiche da parte del centro servizi. L'invio della fattura verrà effettuato su Digital Hub Zucchetti e da lì allo SDI, per poi arrivare al cliente. È possibile definire di default lo stato documento da proporre in fase di creazione, all'interno delle impostazioni nel pannello Valori di default. È necessario indicare le modalità di incasso con rimessa diretta o differita e creare diverse modalità di incasso con scadenze personalizzate. Passiamo ora al corpo della fattura. TIC ha precaricato due tipologie di articoli, i quali rappresentano le merci e o i servizi per cui si emette fattura. Un articolo descrittivo, identificabile dal codice punto, non prevede l'inserimento di importi e quantità ed è utile per la stampa PDF per riportare una specifica dicitura. Un articolo libero, identificabile dal codice punto punto, permetterà di indicare in fattura il costo unitario, quantità o codice IVA che sarà riportato nella stampa PDF e nella fattura elettronica inviata allo SD. Altri articoli possono essere creati dall'interno della fattura, dal menu in alto Anagrafiche, Articoli o dalla pagina principale nella home page. In questi articoli si possono scegliere valori di default, prezzo, codice IVA o inserire tali valori direttamente in fattura. Richiamato l'articolo, sarà possibile modificare le informazioni precedentemente personalizzate o applicare sconti di riga. Dalle icone sulla destra è possibile cancellare la riga di articolo o aggiungere una descrizione supplementare, la quale sarà sempre riportata nella fattura elettronica, mentre è possibile scegliere se riportarla o meno nel PDF tramite il flag presente in questa maschera. In base alle informazioni indicate nel corpo della fattura, in basso saranno riportati Il riepilogo del calcolo che riporta il totale documento e le scadenze d'incasso. Si possono modificare manualmente dopo aver selezionato il flag di scadenza manuale. È inoltre possibile riportare uno sconto sul totale fattura o indicare un importo già incassato. Il castelletto IVA, con le informazioni di imponibile e imposte. Gli allegati, da poter aggiungere la fattura, tenendo presente che dopo il salvataggio della stessa, sarà sempre riportata in allegato anche una copia PDF della fattura. Grazie. Grazie.